Dottor Cottarelli si parla di recovery plan, quali sono le criticità che lei vuole evidenziare? La cosa principale adesso è realizzarlo perché l'impostazione generale, la strategia generale va bene, però è un programma che durerà 5-6 anni e quindi bisogna vedere come si realizzerà. Pensate che sia più la politica o più i tecnici a sbarrare la strada in un'eventuale ripresa? Alla fine è sempre la politica, non è sbarrare la strada, fare le riforme alla fine sono i politici che le devono fare e se anche i tecnici magari sono ostacoli, se c'è la volontà politica le cose si fanno. Parliamo appunto di volontà politica, quando l'Italia è indietro rispetto all'Europa? Non lo so, negli ultimi 20 anni siamo andati molto male, almeno dal punto di vista economico, ma parecchio male, anche prima del Covid abbiamo avuto 20 anni senza crescita. Questa è una cosa che adesso si spera di rimediare con questo recovery plan, vediamo. Pensate che il Presidente Draghi sia una garanzia per l'Italia? Sì, io vorrei rimanesse almeno fino all'inizio del 2023, però lì bisogna vedere, è molto incerto, potrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, secondo me è meglio se rimane fino all'inizio del 2023.